forza mettiti sotto bravo via perché qua nel punto più alto più spiato che il di dietro poi ti arriva qua e il di dietro fa così fino a là allora qua che se il dietro ti scappa giù ti prende lì e ti salta fuori dai rifalla rifalla da zero rifatti guardi la zero però sono possibili vedi controlla già che il dietro ti scappa giù con i 10 cm aia adesso non la fai se incominci a gridare ma è impazzo preparate le orecchie perché se non riesce grida ma che finisce se è perso via sarà giù impigliato nella rete sotto dei conigli non esce più dai vieni su fa' sta zona vada ha ultimato il riscaldamento pronto il secondo pilota montese qua è qua e bisogna caricarli piloti basta bravo bravo chiudi 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 dai finisci là però perché così scusami stringi no io la faccio e la l'hai lasciata scorrere quel pezzettino ticciula fuori dopo e qua anche qua devi arrivare comunque continuo e girarla fuori devi girarla fuori per forza perché se no vai fuori dai zero zero qua non l'ho visto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti